Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi come puoi vedere io Translucent l'ho aggiustato grazie a questo metodo del pacchetto del plugin da aggiungere nel sistema operativo quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato un link che ti porterà sulla pagina per scaricare questo pacchetto se hai problemi con il pacchetto entra nel server discord e ti sarà dato così questo pacchetto quindi in questo caso andiamo un attimo sul nostro sistema quindi andiamo su questo pc nella cartella disco locale come puoi vedere io ho creato una cartella che si chiama zvib ok tu dovrai solamente creare una cartella con questo nome ok quindi io clicco in questa cartella apro così il pacchetto RAR devi estrarlo con win RAR io prendo questi tre file e li metto qua dentro una volta creata così la cartella perfetta per aggiustare questo Translucent per modificare così la nostra taskbar torniamo un attimo indietro chiudiamo un attimo qua andiamo su cmd esegui come amministratore ok siamo sul prompt dei comandi quindi non ci resta che scrivere cd c due puntini slash z e facciamo invio poi scrivete div tool pazio slash disable slash id i due puntini 26 0 0 8 8 3 0 invio configurazione completata exit una volta fatto vai sul tuo Translucent e vedi se hai risolto come puoi vedere su desktop io vado su colori posso cambiare pure i colori e basta quindi se questo video ti è stato utilissimo ti consiglio di iscriverti al canale di attivare la campanella di lasciare un like e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao